Siracusa, progetto per la nuova illuminazione al teatro greco. Il Ministero della Cultura ha dato il via libera al finanziamento del progetto per l'efficientamento energetico del teatro greco. Il progetto curato e presentato dalla Fondazione Inda, grazie alla sinergia con il Comune di Siracusa, la sovrintendenza dei beni culturali e ambientali di Siracusa, il Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, e loro, Villa del Tellaro e Acrai, ha ottenuto uno stanziamento di 650.000 euro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura 1, patrimonio culturale per la prossima generazione, investimento 1.3, migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei. L'intervento prevede la fornitura e la pose in opera delle opere impiantistiche funzionali all'utilizzo del teatro greco, in particolare l'impianto elettrico ed illuminazione con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico, migliorare la fruibilità del monumento e consentire alla Fondazione Inda di dotarsi di attrezzature di ultima generazione per le rappresentazioni classiche che ogni anno richiamano migliaia di spettatori da tutto il mondo. Il progetto in particolare riguarda la sostituzione dell'attuale sistema di illuminazione teatrale, corpi illuminanti, luci di scena, luci di spettacolo, con un nuovo caratterizzato da elementi a elevato risparmio energetico, automatizzati, gestibili da remoto, dotati di maggiore performance e facilmente adattabili alle differenti esigenze richieste di volta in volta dagli spettacoli. L'utilizzo di elementi a LED di ultima generazione è intercambiabile e funzionante anche in Bluetooth, secondo quanto previsto dal progetto, permetterà un risparmio energetico consistente pari a 152 kWh per tutto il periodo della rappresentazione classica, con una rilevante riduzione anche di emissione di anidride carbonica nell'aria. I vantaggi non riguardano però solo la stagione teatrale perché grazie al finanziamento ottenuto dalla Fondazione Inda e alla nuova illuminazione pensata nel rispetto di uno dei monumenti più importanti al mondo, il teatro greco potrà essere fruibile 12 mesi l'anno da turisti e visitatori sia nelle ore diurne che nelle ore serali.